Volevo iniziare a parlare un pochino proprio nel dettaglio di quello che può essere utile per configurare anche la parte server non solo la parte workstation che avete sul vostro computer personale perché spesso, tante volte, si ha necessità di lavorare, comunque analizzare dati di grosse dimensioni oppure, ancora peggio, non si ha la disposizione di una macchina prestante come workstation quindi si appoggia a delle soluzioni server Sicuramente, oramai, penso che Unix è diventato un po' lo standard de facto per questo utilizzo consideriamo che poi Unix nasce all'inizio degli anni 80 da un progetto BSD che risale al MIT quindi dall'Università di Harvard e poi dopo è stato sviluppato prima in ambito locale poi man mano ha preso piede e si utilizza adesso sotto Linux ma comunque in ambito server anche Mac OS deriva da Unix tanto per dire il paradigma principale è quello che si dice che everything is a file cioè tutto quello che è dentro il sistema operativo è visto come file quindi da una directory, da un volume, da un file appunto a qualunque cosa appunto è visto come una struttura gerarchica che quindi appunto può essere visualizzato come file vediamo se riesco a farvi vedere ecco per esempio un'immagine che rappresenta un pochino quello che intendevo adesso cioè tutto risale dalla root dalla root ci sono tutti i percorsi che poi figli che sono man mano più specifici allora si parte dalle directory principali che ci sono sempre su un ambiente Unix che sono Edge che gestisce più che altro la parte quella di rete, dischi comunque la parte diciamo hardware poi ci sono i binari cioè i sorgenti e i file compilati che si utilizzano per lanciare i programmi la Home quindi specifica una cartella per ogni utente dove ogni utente ha i suoi permessi, lettura e scrittura e può salvare e creare i suoi file la cartella Lib che serve di solito per salvare le librerie necessarie per compilare e per installare tutto il software necessario e poi a directory var dove ci sono altre variabili necessarie per appunto il funzionamento dei programmi un'altra cosa interessante è che è stato uno dei penso uno dei primi sistemi a sviluppare il multi user system cioè il fatto di gestire più utenti contemporaneamente quindi di fare login e logout di singoli utenti all'inizio era uno per volta adesso sono addirittura oramai da tanti anni gestisce più utenti contemporaneamente chiaramente c'è la possibilità del networking come vi ho detto anche adesso ma questo comunque è stato uno dei primi comunque dei primi degli anni 80 e la cosa invece fondamentale da sapere è che è multipiattaforma cioè è basato su linguaggio o comunque deriva dal linguaggio C quindi C sappiamo che è un linguaggio che necessita di un compilatore specifico per ogni piattaforma però una volta compilato il codice per la specifica piattaforma chiaramente il sistema funziona su tutte le piattaforme quindi se per esempio vedete volete scaricare distribuzione Linux per esempio Ubuntu, Debian, quello che sia dovete stare attenti a scaricare quello della specifica piattaforma per dire adesso sui nuovi processori Apple Silicon voleste virtualizzare in sistema operativo dovreste scaricare la versione ARM chiaramente però invece i processori Intel cioè la parte Intel a 64 una volta si scaricava quella a 32 bit oppure tante altre insomma quindi va scaricato specifico per la propria piattaforma però è molto semplice non malutilizzare e poi chiaramente si basa molto direi quasi totalmente sulla Shell quindi su Bash ci sono tante funzioni interessanti che ci sono da tanti anni che aiutano sia il programmatore che lo sviluppatore appunto di software che appunto ad esempio il completamento automatico il copia e incolla l'esecuzione di script l'accesso diretto oppure l'interfaccia grafica che alcune volte può anche non esserci ma comunque è implementata c'è la documentazione automatica per tutti i percorsi degli script e poi comunque è un'implementazione abbastanza semplice da qua ne derivano tante altre software tante distribuzioni che negli anni sono nate negli anni 80 per esempio la parte quella dei Mac che comunque deriva dal file system next sviluppato da Jobs negli anni 80 che è basato su Unix e poi è stato sviluppato e portato avanti con Mac OS ma anche tantissime altre tutte le distribuzioni Linux e tutto quello che ne deriva insomma sono tutte derivate da Unix quindi è importante insomma avere un overview del sistema detto questo la prima cosa che fare dando per scontato che qualcuno l'ha installato il testo operativo perché adesso questa è una cosa un pochino più complicata da spiegare però diciamo che una volta che è stato il testo operativo potete magari provare a farlo facendo una macchina virtuale e scaricate una ISO di distribuzione Ubuntu o una Rebian e lanciate una virtual machine e provate a installarlo una volta che l'avete installato solitamente avete il vostro utente e l'utente root allora il vostro utente è quello con cui entrate e fate il login quindi per esempio qui sono Giulio nel mio server e qua all'università se volete diventare root dovete dare sudo su lui vi chiede la password di root adesso me non mi ha chiesto perché l'ho utilizzata prima e vi fa entrare come root premete ctrl d e fate exit e tornate sul vostro utente la prima cosa da fare però chiaramente quando si trova in questa situazione è quello di dire ma cosa mi serve per lavorare sicuramente ci saranno dei software che mancano quindi dovrò installare dei software per farlo sui ambienti derivati da Debian si utilizza apt quindi fate sudo apt slash get per esempio update aggiornate i repository che avete caricato con upgrade fate gli aggiornamenti con search cercate un pacchetto per esempio apt get search myesquel forse non era search apt questo non c'era get ecco vi fa vedere un po' i pacchetti disponibili sull'ambiente myesquel vedete adesso qua ce ne sono tantissimi ma insomma l'importante è che capite come funziona poi per installarlo fate apt get apt get install per esempio htop che serve per vedere i processi adesso questo l'ho già installato però per dire proprio lo installa lo lanciate e vedete appunto i processi come evolvono la memoria eccetera quindi diciamo questa è una delle prime cose che va capito come fa è veramente semplicissimo poi le directory che vi ho detto prima per esempio se facciamo llroot vedete un po' tutta la struttura delle directory che vi dico prima ce ne sono anche tante altre ci sono per esempio le directory media dove vengono montati i dispositivi rimovibili quindi cd chiavette eccetera poi c'è la cartella mnt2 io monto i dischi di rete esterni poi vi faccio vedere come funziona e poi ci sono un po' tutte le altre cartelle sono i file di boot lo storage dove sono linkati i dischi fisici della macchina e quindi insomma avete un po' tutta la struttura per vedere questa cosa dei dischi ad esempio se io voglio vedere i dischi che ho montato e quelli che sono diciamo linkati sul sistema operativo faccio df-h e mi da tutto il listato dei dischi montati e anche tra l'altro la dimensione lo spazio utilizzato come vedete io ho tre dischi di rete che è il NAS che ho montato come vi dicevo l'altro giorno adesso vi faccio vedere come si monta poi ho i quattro dischi fisici che sono attaccati in SATA sulla macchina che quindi sono questi quattro e poi ci sono tutte le directory e i file temporanei che vengono installati da quando si installa il sistema operativo quindi in realtà questo è molto semplice per montare automaticamente dei dischi che sono di rete oppure dei dischi esterni bisogna lavorare sull'FSTAB e come si fa? si va su etc.FSTAB adesso questo io l'ho montato in less quindi lo vedete solamente non posso modificarlo per modificarlo dovete essere root o lanciarlo da sudo come vedete qua vengono montati automaticamente i quattro dischi interni con dei parametri default quindi l'automount il default per la lettura e la scrittura poi invece per la parte quella di rete io ho montato il mio il mio NAS e vedete che ho montato in sola lettura questi questi tre dischi quindi in realtà è molto semplice mettete il percorso di rete poi montate dove lo volete montare vedete qua ci sono i percorsi poi la tipologia del file system mettete l'username la password la modalità di permessi e la codifica dei caratteri quindi veramente molto semplice altra cosa importante che volevo dirvi ah sì che potete fare una cosa spesso utile potete fare in modo che di diciamo leggere dei documenti tramite il protocollo http che questo può essere comodo se potete magari fare tipo un web server esterno per scaricare o visualizzare i dati per fare questo è molto utile utilizzare la cartella adesso l'ho fatto prima quindi ve l'ho fatto torno indietro la cartella html sotto var www se voi mettete qua dei link sotto la il percorso del diciamo ip della macchina e i nomi che voi date leggete queste cartelle per esempio io ho messo la cartella genome linkata su opt genome se io vado su per esempio il p del computer che è il 204 e scrivo genome visualizzo e tutta poi la cartella genome perché l'ho linkata quindi c'è per esempio i genomi di controllo c'è il genoma umano e così via quindi diciamo è molto utile se volete navigare su determinati path altra cosa che non vi ho detto prima quando prima ho fatto apt get update cosa fa? lui aggiorna i repository ma dove sono questi repository? li potete modificare? chiaramente si si possono modificare e dove sono? sono in questa cartella qua anzi in questo file che è hapt source list che sta qua se voi fate l'ess di questo file vedete appunto come sono visualizzati come si possono installare adesso i commenti chiaramente non vengono letti quindi queste righe le vengono saltate ma se mettete deb indirizzo repository distribuzione e tipologia dei pacchetti lui capisce che sono pacchetti per la distribuzione devian devian ubuntu in questo server per questa tipologia di versione di ubuntu e nella versione multiverse che comprenne tutti i pacchetti e ne mettete quelli che vi servono ce ne sono la maggioranza sono di default appena installate ma può essere necessario installare dei pacchetti specifici per esempio io ho installato una versione di error specifica tempo fa e ho cercato su internet il repository specifico per la mia versione di ubuntu che è la xenial per r 4.0 ho messo il repository ho fatto update salvato ho fatto update poi ho cercato il pacchetto e l'ho installato quindi è molto utile per aggiungere anche software oltre quello di default un'altra cosa fondamentale da sapere è che su ogni utente ha un file di configurazione del profilo che in questo caso per esempio nel mio caso è bash rc quasi nella totalità dei casi tranne che su mac os che è zsh rc perché non utilizza direttamente bash ma zsh questo file qua lo potete leggere ci sono un po' di configurazioni che non sono obbligatorie in realtà cioè questo file può essere anche bianco non esistere lui utilizza quello di default però se volete aggiornare o mettere delle configurazioni vostre potete modificarle senza che ve sto a specificare ogni singola cosa però la cosa interessante è che potete per esempio colorare in fronte ai comandi colorare sia il nome utente colorare la parte anche della numero della directory oppure le cartelle quando fate ls o ll potete specificare il tipo di terminale questo serve per abilitare appunto i colori delle directory oppure fare degli alias per esempio io ho fatto degli alias per ll se no avete solo ls quando installate in sembrattiva invece a me fa comodo utilizzare una versione un pochino più evoluta di ls cioè un ls con alcuni parametri che sono quelli per visualizzare la dimensione dei file in un formato leggibile in colori lo slash finale per le cartelle eccetera quindi voi potete tranquillamente editare e aggiungere le vostre configurazioni poi ci sono anche tante altre cose ci sono alcune variabili di ambiente che specificano la codifica questo serve le directory questa parte di coach serve per conda però lo installa e lo scrive automaticamente l'installer di conda quando lo installate quindi non è una cosa che volete aggiungere voi e poi volevo farvi vedere se l'avevo specificato qua non ricordo che forse su profile che profile fa praticamente è molto simile solo che ci succede un ordinamento di lettura in cui prima vedete che c'è di solito su tutte le versioni c'è questa parte di codice cioè che se in base alla versione di bash lui legge la versione che è qua dentro altrimenti legge questo file qua cioè se non c'è la versione di bash rc legge questo file qua o comunque prima legge questo e poi legge la parte sotto quindi se volete aggiungere qualcosa su profile dovete metterlo sotto questo blocco e di solito su profile ci sono le variabili di ambiente c'è la variabile path la variabile path di solito ci sono salva i binari che sono dentro la home i binari locali e quelli che sono sul path generale cioè sovrascrive quello che è sul path iniziale il path iniziale contiene per esempio se io faccio ecco path mi fa vedere qual è il mio path il mio path è come vi dicevo i binari che sono nella home quelli che sono per esempio di conda perché conda ha aggiornato la variabile path alcuni software che ho messo poi user sbin user bin user local bin e così via quindi è importante che questa variabile di ambiente sia impostata poi chiaramente le variabili di ambiente ce ne stanno tantissime per esempio ce n'è un'altra questa non è configurata qua ma c'è la java home ce ne sono tante variabili di ambiente che si possono adesso forse se faccio ecco vediamo se me ne completa sì per esempio hostname ti dà il nome della macchina hammer e ce ne sono tante queste vengono impostate il nome del computer abbastanza abbastanza semplice un'altra cosa interessante che può essere utile configurare all'inizio per esempio è mysql perché mysql si utilizza tantissimo per tante cose per esempio si utilizza per la parte chiaramente database con PHP myadmin che adesso faccio come si configura si utilizza però anche per tanti altri software lo richiedono chiaramente c'è la versione client che è il pacchetto mysql e la versione server che è mysql server se vi interessa utilizzare mysql con php myadmin dovete utilizzare chiaramente la versione server quindi dovete installare prima tutti i pacchetti che servono che sono appunto mysql mysql server e php myadmin installate questi pacchetti adesso qua su questa guida da per scontato che avete stato già mysql ma comunque una volta che avete installato i pacchetti di php myadmin lui vi chiede appunto la configurazione su quale web server installarlo io vi consiglio Apache poi vi chiederà appunto la configurazione e la configurazione prevede appunto che voi installate una inserite una password di amministratore che è la password che serve per appunto creare poi i database installate configurate poi php myadmin con la sua volta la password per registrare il database sul server poi vi chiederà la conferma della password e diciamo che la parte di installazione di php myadmin è molto semplice finita poi però dovete attivarlo per attivarlo lui cosa fa intanto vi installa questo file qua se voi avete selezionato Apache vi installa il file comp su questa directory quindi qua già è configurato però per abilitarlo dovete aggiungere questa estensione di php myadmin che è già installata sul vostro sistema operativo dovete solamente abilitarla con questo comando e poi riavviare Apache in questo modo voi avete direttamente installato mysql ed è pronto per funzionare però qual è il problema che adesso voi avete solamente l'utente root di mysql che è quello che avete configurato prima però è sconsigliato tra l'altro mi sembra che non è neanche permesso di default utilizzare l'utente root per navigare con php myadmin o creare database cartelle utenti quindi che dovete fare dovete appunto creare un altro utente quello che vi consiglio di fare è intanto vedere magari fatela questa procedura qua per configurare la password dell'utente root se volete cambiarla entrate come root su mysql poi lanciate questa istruzione qua dentro la shell di mysql che vi fa vedere gli utenti che sono installati poi se volete modificate la password di root cosa che vi consiglio comunque di fare flash i privilegi significa rendi attive subito le modifiche quindi questa parte qua è già attiva e poi vedete appunto che sarà cambiata la password adesso dovete creare però un utente entrate sempre come root su mysql con questo comando create un vostro utente con un nome utente una vostra password date privilegi che volete per localhost cioè la macchina interna fate exit e poi potete tranquillamente accedere tramite il vostro ip server oppure localhost a seconda da dove lo fate accedete avete l'interfaccia grafica potete entrare e vedete tutti i database potete crearne aggiungere quello che vi consiglio di fare è di dare però tutti i privilegi al primo utente perché almeno potete gestire con questo utente tutte diciamo le funzionalità quindi seguite più o meno questa via adesso poi il link ve lo mando poi un'altra cosa che vi consiglio di installare se utilizzate R chiaramente è a parte di pacchetti di R quindi apt.get.r e installa tutta la parte R base ma poi se avete un server vi consiglio di utilizzare RStudio Server la versione RStudio Server ci sono due versioni c'è la versione gratuita che ha una licenza e gestisce una sola versione di R e poi c'è quella a pagamento che però costa un mila euro l'anno io vi consiglio chiaramente partire con quella gratuita che tanto bene è pacchettizzata per tutte le distribuzioni ma anche per Mac e per Windows come fate? copiate il link della vostra distribuzione poi andate sulla shell fate vget aspettate che qui in realtà non mi ha dato il link diretto del pacchetto Debian ci cliccate qui poi tra l'altro vi da anche la guida molto semplice ma installate R che tra l'altro è il pacchetto Airbase poi installate Gdb.com ma generalmente già installato poi fate vget come vi dicevo e il file deb che è questo comando che vi stavo facendo vedere io adesso e che cosa fa? ve lo scarica vget quindi poi ve lo ritrovate nella cartella dove siete adesso io adesso sono nella nella mia home ve lo faccio del pvd se faccio ll trovo infatti questo file qua poi fate dpkg-i rstudio ve lo installa quindi da sudo però scusate perché sennò chiaramente non funziona e ve lo installa quindi molto semplice adesso questo file lo rimuovo lo installate poi questo fa partire un demone per esempio ve lo faccio vedere questi sono i demone in pst vedete i demone che sono attivi nella macchina vedete per esempio c'ho apaci c'è mysql c'è l'rstudio server che è questo qua e poi ce ne sono anche altri insomma però insomma fa vedere appunto che questo demone è attivo poi andate sul vostro sito internet o localhost e andate su rstudio che è sulla porta se non sbaglio 87 87 vi collegate qua e lui automaticamente accedete qua con la vostra username e password e potete accedere alla console alla console error che è però sul server questo vi permette di utilizzare risorse molto più grosse quindi chiaramente utilizzare la versione di error che permettendo di fare analisi più impegnative no